ed eccoci qua buonasera a tutti è una è una vita che non ci sentiamo vediamo chi c'è che ci sta seguendo siamo io la dottoressa veroni calandeschi io lo so che ecco tamara buonasera 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 tamara bellissima aspettiamo un attimo che questa sera ciao milli abbiamo un argomento molto 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 interessante anche un po un po forte però è comunque sia necessario che noi che ci occupiamo di benessere sessuale sappiamo anche alcune patologie fra virgolette che possono succedere alle persone che praticano sesso in un certo modo quindi siete già in dieci vedo quindi possiamo vi svelo vi svelo questo segreto buonasera chelopatra buonasera risa questa sera parleremo di parafidie probabilmente alcuni sapranno di che cosa stiamo parlando molti ne avranno sentito almeno il nome tantissimi anche come me magari non sanno tutto quello che c'è dietro una parafidia e soprattutto perché cos'è ma siamo assolutamente tranquilli perché qui abbiamo la nostra bellissima dottoressa veronica landeschi che ci introdurrà nel mondo delle parafidie quindi la prima domanda di rito da fare che cosa sono appunto le parafidie ti sei buona salva e buonasera a tutti buonasera grazie grazie mille dei complimenti rosso allora iniziamo che cosa sono le parafidie allora tema abbastanza come già ce ne avete un pochino più impegnativo del solito però giustamente è necessario metterci un attimino l'attenzione con parafidie intanto proprio il termine si indica con para che significa presso accanto e filia amore affinità quindi proprio un ambito nostro nostro nel senso psichiatrico psicologico ma anche sessuologico si indicano tutte quelle pulsioni erotiche e quindi intense persistenti un interesse sessuale per la stimolazione e tutte quelle fantasie impulsi intense che quindi vanno ad essere su attività o situazioni specifiche che riguardano diverse cose possono passare da oggetti da animali ma anche a temi un pochino più caldi nel senso anche che arrivano anche a comportare della sofferenza umiliazione per altre persone o per altre situazioni e tutto questo spesso sono rivolte a soggetti indifesi e anche a volte non consenzienti quindi sono questi impulsi erotici che vanno a connotarsi proprio su questa fascia qui sono di tanti tipi ora ne andremo a vedere piano piano nello specifico però è proprio questo il termine di parafidia quindi tutto quello che va accanto all'amore va presso perché proprio ci sono queste pulsioni erotiche che però si vanno a fissare su delle fantasie e anche su attività situazioni come vi dicevo molto 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 specifiche che possono essere oggetti animali situazioni quindi è un ambito molto particolare e dove noi purtroppo bisogna anche lavorarci perché dico purtroppo perché non sono temi facili sono delle situazioni molto impegnative quindi è un disturbo vero e proprio della persona cioè viene nasce ci si diventa ci sono di queste statistiche non lo so sto facendo una domanda a caso così invenuta certo allora si arriva a essere proprio un vero disturbo della persona come nasce allora degli studi hanno visto che ci sono dei fattori che predispongono la persona a avere queste tentazioni passatemi il termine con tentazioni e fattori ambientali ma anche determinate situazioni di vita ovviamente uno stile di vita familiare un po' particolare dove ci sono storie di abusi di violenze di mancanze di figure di genitoriali importanti e comunque tutte situazioni ambigue che lasciano una persona in uno stato di malessere possono provocare questo ovviamente non è detto che tutti quelli che hanno subito violenze uguale diventeranno persone con delle parafili o con un disturbo parafilico però c'è una predisposizione quello sì ok quindi ci saranno delle parafilie che saranno più conosciute e meno conosciute vogliamo fare un elenco allora un secondo prima dell'elenco volevo anche un attimino mettere l'attenzione tra la differenza tra la parafilia e disturbo parafilico perché a volte si sovraccavallano i termini ovviamente magari per i non addetti ai lavori possono essere simili però in realtà non è proprio così perché la differenza è notevole il disturbo parafilico si applica nel momento in cui quindi c'è questa parafilia che inizia a causare un forte disagio e anche una compromissione della vita quotidiana della persona con compromissione della vita quotidiana si intende il lavoro, le relazioni, la vita sociale, gli obiettivi di vita quindi tutta questa parte qui va a sgretolarsi perché c'è questa parafilia che viene messa proprio davanti agli occhi cioè è la cosa più importante per la persona in più questa parafilia può avere arrecato o rischia di arrecare dei danni o a se stessi o agli altri in più c'è o la natura qualitativa della parafilia o le conseguenze quindi il disagio e la compromissione del danno degli altri in base a questi piccoli criteri si differenza se c'è una parafilia o un disturbo parafilico è un pochino questa la differenza per andare nello specifico per quanto riguarda invece tutti i sottogruppi delle parafilie che ci sono si vanno innanzitutto a guardare l'oggetto e l'atto che viene preso in considerazione vi faccio un pochino un escurso stasera un chiacchiero insomma una panoramica di quello che si guarda per andare un po' a differenziarli ovvero tipo il canale sensoriale che viene sollecitato per esempio il canale visivo allora lì si può parlare per esempio di voyeurismo che è molto famoso se c'è un canale preferito tipo acustico-verbale e quindi c'è il torpilopio la pornolalia quindi tutto quello che va a dare eccitamento tramite quello che noi sentiamo il torpilopio è quando proprio si ascoltano il pronunciamento di parole scorrili o volgari attinenti proprio alla sessualità le classiche anche parolacce ma anche a volte proprio anche a livello telefonico ci sono queste situazioni canale olfattivo quindi tutto quello che ci arriva dall'odore e qui entrano in campo feci, flautulenze, sudore sono veramente disparate sono tantissime e spesso arrivano anche nuove altri canali tipo il gustativo il tattile che come già dicono i termini vanno proprio a toccare determinati punti il canale gustativo quindi l'eccitazione sessuale è proprio perseguita tramite l'ingestione o l'irrorazione di solito di escrezioni corporee quindi scusami perché sennò anche a me non mi è chiaro quindi per esempio parlavi del dirty talking per esempio eccetera eccetera però è una malattia diventa parafidia quando dà un'eccitazione cioè tutto questo è quando tutto ciò rende cioè ci si eccita molto con tutto questo non perché si sta giocando o si sta facendo cioè perché c'è proprio senza di questo non ci sarebbe eccitazione senza tante di queste cose ok è l'ultimo pezzettino senza di questo non ci sarebbe eccitazione quando diventa una cosa molto esclusiva un conto se a me piace dire una parolaccia o sentire determinati termini mentre suono con il mio partner questo può essere anche un gioco può essere anche una modalità di cambiamento come a volte si è suggerito anche tra le coppie se noi facciamo una piccola cosa per provare ok quando diventa un'unica modalità per provare piacere allora quello inizia a essere un problema è quello che fa cambiare in parafilia tanto mi stanno partendo gli aggiornamenti del computer fantastico quando partono queste cose è bellissimo è che ti si blocchi poi il computer comunque ecco l'elenco ecco quello che si può fare per quanto si volevo fare una domanda quindi per esempio quando poi si dice il masturbarsi troppo a volte lo si dice il masturbarsi troppo fa male cioè se uno si fissa che la masturbazione è solo il mezzo che una persona prova piacere quella può diventare una parafilia è giusto cioè non è più un piacere cioè se l'unico modo che tu non vai con nessuno eccetera eccetera ma hai bisogno di masturbarti guardando un film pornografico non te ne frega niente della tua ragazza della tua compagna del tuo compagno eccetera eccetera ma è l'unico modo devi metterti davanti a un computer guardare un film pornografico devi masturbarti per forza e subito dopo io so di persone che si masturbano sette otto volte al giorno e non possono smettere perché è un continuo cioè non smettano di eccitarsi di pensare a questa cosa allora lì è leggermente diverso perché è vero che c'è una fissazione per la masturbazione però non si potrebbe più di tanto parlare di parafilia in quanto non c'è un impulso erotico verso attività o situazioni che riguardano magari oggetti o animali e che comportano sofferenza o umiliazione sono questi i pezzettini che ci fanno scattare in parafilia se per esempio una persona come dicevi tu Rosalba come descrivevi che magari ha una masturbazione molto importante che quindi fa quello diciamo tutto il giorno ha lasciato anche la fidanzata il fidanzato il lavoro non gli importa niente di uscire dagli amici non è proprio parafilia va studiato bene il caso per definire la sua situazione però ovviamente la cosa importante è capire perché c'è questa fissazione perché ha escluso le persone perché non prova piacere anche nelle altre situazioni ok grazie del chiarimento perché non mi era nemmeno chiaro facciamo questo elenco di di quello di quelle che potrebbero essere le parafilie un po' più comuni che ritroviamo allora quali possono essere le parafilie un pochino più comuni quelle che di solito sono un pochino più diciamo le classiche l'esibizionismo è classico è il bisogno il comportamento che porta proprio all'esposizione dei genitali a una persona ignara che significa il classico persona che va e si apre il cappotto e sotto è completamente nudo quello è un chiaro esempio di esibizionismo un altro aspetto un altro un'altra parefilia potrebbe essere il feticismo di travestimento diverso da il piacere di traversirsi e basta in questo senso proprio il feticismo di travestimento significa l'eccitazione o il piacere sessuale e o il piacere sessuale nell'indossare abiti del sesto opposto anche qui faccio l'appunto come si è appena fatto sulla masturbazione che significa che la persona non è che se una volta vuole indossare l'intimo del compagno della compagna ok è già catalogato in parafilia assolutamente no e quando viene utilizzata questa forma qui solo ed esclusivamente questa forma qui per eccitarsi che arriviamo a il feticismo e quindi si parla dell'uso esclusivo magari di oggetti che tecnicamente non sarebbero nemmeno proprio attinenti alla sessualità il più classico di tutti sono le scarpe le persone che ecco guardano molto le scarpe gli indumenti non so se vi è mai capitato di leggere da qualche parte di persone che addirittura acquistano anche gli indumenti utilizzati questo fa parte del feticismo frutterismo sì ti volevo dire ho letto da qualche parte che non è necessariamente il feticismo poi dimmi che smentisci che non è sempre strettamente legato alla parte delle scarpe del piede del collo del piede di questo qua ma può essere legato anche a un oggetto qualsiasi ti faccio una cosa assurda un paralume cioè una persona che ama talmente una forma di esatto di qualche cosa che si circonda ma può essere pure una tazzina cioè nel senso sto esagerando chiaramente però non sempre è legato ho letto a qualcosa che appartiene alla donna o all'uomo può essere anche un oggetto qualsiasi sì 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 è giustissimo Rosalba sì sì prendono come punto di riferimento o un materiale o una forma o una certa categoria di oggetti che per loro li provoca piacere e vanno a ricercare quello pensa che vi faccio questa confidenza una ragazza che conosco lei si è sempre eccitata molto sentendo e quindi con il canale uditivo il rumore dell'aspirapolvere noi infatti come scherzetto gli si era fatto venire un rappresentante di una nota marca di aspirapolveri il ragazzo Porino non poteva fare niente che mostrare l'aspirapolvere e provare a venderla ma noi ci siamo scompisciate dalle risate perché lei non riusciva a stare seduta sul divano fantastica questa cosa immagino già la scena nel senso che non esatto esatto e poi ecco magari anche qui nel frotterismo anche qui ci sono tantissime storie il frotterismo che cos'è è il bisogno che ha una persona di palpeggiare il corpo di una persona non consenziente purtroppo si è sentito tante tante volte di persone magari sull'autobus che con la calca della gente spesso comportamenti che magari sono passati un po' involontari qualche palpeggiamento in qualche parte del corpo a persone non consenzienti è stata fatta oltre che gli scippi sempre negli autobus però ecco anche qui magari vi sarà capitato di sentire leggere storie di questo tipo un altro punto di parafilia un'altra categoria può essere il masochismo ovvero il bisogno della persona e che lo trova come comportamento sessuale eccitante e anche quindi ricercato nel volere essere proprio umiliato provare dolore o soffrire in altri modi significa proprio che tra il piacere dal sentirsi umiliati da provare un dolore la pedofilia qui è l'attrazione sessuale per chi per individui più piccolini per i bambini specialmente in età infantile prepuberale di solito sono la categoria che è molto più ricercata qui si può scatenare l'inferno per le nostre posizioni rispetto a questa specifica parafilia perché tra le tante è molto forte perché va a coinvolgere anche una fascia di persone molto deboli e fragili ovviamente non consenzienti ovviamente un'altra categoria è il sadismo quindi al contrario del masochismo è il bisogno nel produrre dolore o umiliazione della vittima e da qui parte anche tutto il gioco di mistress e padrone sottomessa e anche al contrario ovviamente tutto questo gioco nasce poi anche tutta la specifica parte che è del BDSM del bondage non è una parafilia di per sé ma è un modo di vivere la sessualità è importante metterla in una giusta fornice in una giusta identità c'ha queste velature di sadismo e di masochismo perché comunque è tutto un gioco di far provare dolore all'altro di dominare l'altra persona e viceversa quindi sia essere dominati ma sia anche per l'altra persona dominare però non si mette proprio esattamente qua è un altro modo di vivere la sessualità un altro gruppo di parafilie è quello del voyeurismo e quindi anche qui ci sono tantissime storie leggende o anche fatti proprio realmente giustamente accaduti di persone che sono spinte a scuriosare a guardare gli altri mentre sono nudi o comunque impegnati nei rapporti sessuali quante volte abbiamo letto sentito di amici che magari si erano appartati nei macchine e quindi anche in posti isolati e che c'era il classico così detto guardone no? e rientra in questa categoria qua ti interrompo un attimo per chiederti questa cosa però a volte possono in questa categoria in quello che hai detto tu adesso può esserci una specie di intesa non detta per esempio io ho una finestra nella camera da letto no? la finestra della camera da letto allora io facciamo che sono esibizionista mi piace che mi guardano mi accordo che quando faccio qualcuno mi guarda allora se io ogni volta che faccio che faccio l'amore e faccio sesso alzo le tapparelle spalanco le finestre e do quindi questo segnale all'altra persona siamo parafiliaci tutte e due perché a un certo punto mi accorgo che a me dà molto più piacere posso arrivare a non poterne fare a meno oppure una cosa le paraterie sono controllabili o non sono controllabili allora sono delle situazioni in cui è molto difficile una volta che ci siamo dentro risolverle ma non sono impossibili è opportuno farsi seguire con una terapia farmacologica e con una psicoterapia entrambe le situazioni devono essere fatte di pari passo ovviamente da personale specifico e in quel caso che stavi dicendo tu Rosalba siete un po' entrambi complici perché comunque tu sai di essere guardata e anzi ti metti in quella posizione di l'altro prova piacere nel guardare te quindi è già una sottospecie perché c'è già un po' il consenso da entrambi specialmente da tu che ti metti nella posizione di diverso è che tu ti apparti e lui ti spia magari in qualche film si è visto tipo quello che fa il buco nel muro per spiare le ragazze che si allenano e che vanno negli spogliatoi oppure come dicevo prima coppiette che si appartano in macchina in qualche piazzola e c'è il tipo nascosto dietro mi viene in mente dietro l'arbusto dietro il cespuglio dietro queste situazioni se tu ti metti tra virgolette a disposizione già un po' crolla perché è come quando si passa nel discorso del BDSM c'è un altro tipo di sessualità dove comunque siamo consensienti ok stavo pensando che c'erano a parte che ce ne sono è un discorso che mi piace tantissimo mi piacerebbe che veramente si sviscerassero un po' tutte queste parafidie perché non non finiscono qua io per esempio mi ricordo che Kafka in qualche modo in un suo libro ne aveva parlato adesso io non mi ricordo però Kafka si è interessato di di parafidie però me lo devo andare a cercare e poi ti ti saprò dire meglio però non si ferma ci sono delle parafidie che sono ancora molto più secondo me queste sono proprio quelle che possiamo dire esatto che possiamo dire e di cui possiamo parlare però probabilmente è meglio che a che ci siamo che poi faremo per esempio sul BDSM sul fetiche una cosa a parte perché comunque rientrano in un'altra categoria di parafidia quindi un consenso un contratto delle cose eccetera eccetera ma ci sono delle vere e proprie modalità in alcune coppie come per esempio andare nei cimiteri quelli che vanno nei cimiteri a fare a fare sesso cioè che non con la blasfemia cioè ci sono la coprofilia che magari le persone non sanno coprofilia che significa cioè è bene perché comunque sia se qualcuno ha un partner una partner che magari consensuale che gli piace anche però a sapere che fa parte comunque di una categoria poi se si deve preoccupare si preoccupa o non si deve preoccupare non si preoccupa insomma questo è importante saperlo no però quelli del cimitero la coprofilia quello che questo momento non me ne viene ma me ne verrà qualcuno sicuramente comunque concordo con te Rosalba quando dici ecco ce ne sono talmente tante e anche molte molte particolari la coprofilia quella che stavi dicendo tu adesso riguarda le feci quindi provare anche piacere eccitazione sessuale ci sono diverse sfumature sia nel farsela fare addosso quindi farsi defecare addosso ma anche proprio nell'annusarla toccarla e quindi avere a che fare quindi con il mondo delle feci ma anche con la flautulenza tanto siamo in questo tema anche quello può essere insieme anche al vomito a volte anche con l'urina tutti tutto quello che il nostro corpo può dare può essere una una parafilia e viene utilizzato addirittura anche fare ricevere o ricevere cristeri la crisma filia avere anche rapporti anche con persone disabili anche quella è una parafilia rapporti nel senso non con sezietti è sempre vi sto dicendo con oggetti non viventi come si diceva prima sul feticismo con gli insetti striscianti avevo riletto ce ne sono veramente tantissime e sono tante 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 e comunque come vi dicevo prima passano da una cosa ad un'altra possono passare quindi da canali uditivi olfattivi ma anche proprio dall'atto proprio sessuale di per sé che cambia c'è una domanda di Priscilla Priscilla ci chiede in un gruppo ho letto un annuncio di una persona che chiedeva una coppia che lo umiliasse perché le sue parole si è eccita a sentirsi essere imperiore si può chiamare eccitazione sessuale o disturbo allora eccitazione sessuale se è inserita in un contesto di sessualità ampia disturbo se è l'unico modo per eccitarsi per vivere la sessualità ok Carmen ci chiede ma vi sono delle terapie adatte cioè vi è chi ha riconosciuto di avere una 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 parafilia e ha cercato un rimedio questa domanda interessante oppure la terapia adatta è la la terapia farmacologica e la psicoterapia ovviamente come dicevo prima la cosa migliore è farla insieme se si sono riconosciuti di avere una parafilia è un po' difficilina come cosa spesso devono essere messi di fronte a un'evidenza importante è difficile che per loro sentano questo disagio e quindi è difficile che cercano un rimedio cioè ci sono anche persone che riescono però spesso sono spinti da altri o da situazioni estreme purtroppo prendo un esempio il caso del pedofilo che viene fermato dall'altri perché se no è difficile che lui si ferma allora il probabilmente qua abbiamo una domanda si guarisce dalla pedofilia esatto è un po' quello che volevo dire io è da altre parafidie allora è un percorso che non è semplice non è sicuramente semplice è impegnativo come vi dicevo bisogna vedere molto bene la situazione quanto la persona ha voglia di cambiare questo è il fattore principale detto questo se la persona ha voglia di cambiare ci sono i mezzi per poterlo fare spesso ci sono terapie farmacologiche che magari gli vengono prescritte e la persona prende più o meno bene quindi a volte magari qualche pillolina salta o qualche farmaco non viene preso in una maniera adeguata la psicoterapia a volte viene fatta con razio e quindi una persona proprio ci si mette di impegno per cambiare altre volte la fanno perché magari sono obbligati tutto questo va a determinare comunque è possibile una risoluzione quello sì però dipende da caso a caso allora facciamo una specie di distingo a me piace piacciono gli argomenti forti perché non se ne parla mai secondo me sapere determinate cose forti o lievi che siano è sempre molto molto interessante allora secondo me facciamo un distingo la parafilia è una cosa che io faccio a te che mi eccita e tu non lo sai è giusto quindi io mi eccito ma tu sei assolutamente inconsapevole che io ti sto guardando che ti sto seguendo che ti sto facendo che magari ti ho sfiorato apposta sull'autobus quindi la persona è inconsapevole è giusto quando invece ci sono un danno ti può anche arrecare un danno o a te o all'altro l'inconsapevolezza però se c'è una coppia che pratica queste cose sono belli tranquilli e felici cioè non recano danno a nessuno è giusto giusto quindi non si chiamino tra virgolette in causa terze persone o tipo animali per esempio se rimaniamo nel tema di parafidie rispetto a indumenti a coprofilia al fatto quindi di defecarsi o urinarsi addosso e i partner sono consenzienti contenti loro contenti tutti dovranno vedere loro le loro malattie il loro stato di salute comunque sono entrambi adulti coscienti consenzienti e quindi sanno cosa stanno facendo diversa è la cosa se quello è il loro unico unico modo di provare piacere e se gli sta arrecando un disagio è questa anche la cosa importante cioè io mi sento a disagio e comunque ecco c'è una compromissione nella vita quotidiana ok io penso che siano talmente tante poi che ne vengono in mente per esempio io sono siciliana ma questo credo che succeda un po' in tutto il mondo quindi dove ci sono campagne ci sono contadini i tempi parlo dei tempi di nonni eccetera eccetera come potrei parlare ma non lo so di tempi moderni dove le persone che stavano spessissime in campagna per sfogarsi c'erano le famose pecore eccetera 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 quindi quella è una 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 parafidia o è un un modo di sentire esatto cioè secondo me è talmente complicata questa 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 materia che è difficile poi un po' da capire o è perché la solitudine l'ignoranza e la moglie eccetera di trovarsi in un certo contesto e allora io devo fare e c'è una un povero animale allora vediamo che è quindi una pulsione erotica verso un animale bisogna vedere quanto è intenso e ricorrente questa pulsione e soprattutto quanto è disagiante per la persona che lo sta vivendo quindi se è una forma esclusiva è una forma sicuramente insolita rispetto ad oggi però non è una fantasia quella che mi sta dicendo perché ho sentito anche proprio con le mie orecchie persone che raccontavano questa situazione e che magari avevano un grosso disagio la persona con cui avevo parlato di questa cosa che questa persona si era sbagliato ovvero aveva preso la pecora sbagliata perché lui era innamorato di una pecora per lui il disagio era stato tradirla con l'altra l'ho sentita pure io questa storia di essere innamorati perdutamente di un animale di sentirsi in colpa e proprio amarlo come si ama una persona Barbara ci chiede ma questo secondo me va sempre sul BDSM quindi ne parleremo un'altra volta però leggiamola ad esempio spesso mi contattano uomini che smaniano per diventare moneslave hanno un desiderio immenso di sottomettersi e pagare è considerata questa una parafilia è ni perché considera uno siete consensenti entrambi per fare questa cosa due bisogna vedere se gli arrega disagio ok si all'arrrega disagio la richiesta che gli è tratta da un tipo qualsiasi come come capita che comunque noi che parliamo di benessere e sessualità ci capitano delle persone che ci chiedono esattamente che vogliono degli indumenti usati e quindi sarebbero disposti a pagarli cioè veramente tantissimo e quindi e a volte mi viene da ridere però capisco che è veramente un disagio e poi pensi di vedere vai a vedere il profilo pensi di trovare magari una persona che è disagiata e trovi la persona con giacca e cravatta che te lo sta chiedendo perché magari ha una bellissima cultura per quel che mi riguarda una bellissima cultura musicale che mi piace ha una pagina un profilo pieno di cose interessanti e poi ti viene a chiedere cioè questa cosa se ho degli indumenti usati da me da 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 regalargli da inviarli eccetera eccetera quindi non è sempre la condizione sociale che ti porta assolutamente no no non è una questione di ceto sociale o d'altro ma più ecco come si diceva magari un po' all'inizio tante tante piccole cose situazionali e anche di fattori ambientali magari dell'infanzia se magari questa persona potrebbe essere stata abusata o quant'altro o comunque se ha tra virgolette deviato il suo percorso verso solo una determinata tipo di sessualità ti faccio una domanda extra che l'altra sera ho visto un film che era sì che era best model ma non il film di Hitchcock proprio era la serie quindi dove lui era assolutamente innamorato della madre era tentato non capiva perché non capiva perché non poteva fare sesso con la mamma la mamma gli diceva io ti amo ti voglio bene come figlio ma io non ti posso baciare e non capiva perché non poteva avere dei rapporti con la mamma ecco questa è una paraferia è un'altra cosa è una perversione è un'altra cosa è una perversione è un'altra cosa allora un'altra volta parleremo delle perversioni quindi scopriamo un altro mondo di quanti mondi ci sono oddio mi sei bloccata Rosalba Ross ci sono no io non so ok no allora io vorrei intanto ricordare chi non ci avesse visto dall'inizio che abbiamo parlato di travestimento lo vuoi ripetere perché ho paura che qualcuno abbia capito male e non ci abbia seguiti allora sul discorso proprio specifico ovvero si stava parlando di paraferie una paraferia potrebbe essere il feticismo di trasvestimento e quindi significa che eccitazione e o piacere sessuale nell'indossare degli abiti del sesso opposto quando è che passa paraferia quando utilizziamo solamente questo metodo per avere piacere se io una volta o due o tre o quattro ma le alterno anche ad altre cose indosso indosso una cosa dell'altro sesso non sono non ho una parafilia è quando la utilizzo come metodo esclusivo e soprattutto quando poi arriva a crearmi un forte disagio ok quindi ragazzi i travestiti non cioè non sono non hanno cioè non hanno questo disagio parafilico quindi è assolutamente un'altra cosa io credo che per questa sera è stato anche abbastanza pesantuccio quindi io direi di di fermarci qui perché alcune cose a volte ridiamo ma andiamo un po' oltre questa sera è stato pesantino è stato utilissimo comunque sia da sapere ci saranno parleremo sicuramente fra due mercoledì di qualche cosa di più leggero o magari faremo una serata una serata a bondage che ci si diverte anche a raccontarla quindi a a volte no vediamo su che lato si si prende cerchiamo di prendere sia sul lato un po' serio e poi sul lato sia un po' giocoso Barbara dice bello tosto ma c'è bisogno di parlarne certo dobbiamo comunque sia queste cose assolutamente saperle noi ringraziamo tutti io ringrazio Veronica che è speciale e veramente ti ringrazio tantissimo per la tua per la tua disponibilità senza te queste cose noi non le avremmo mai sapute se non leggendo ma non non avremmo mai potuto approfondirli e quando poi ci lasci con questo sorriso bellissimo che c'hai io esagerata grazie a tutti ragazzi vi auguriamo una buona serata e ci vediamo con la dottoressa Veronica andeschi fra due mercoledì e mi raccomando voi che siete incaricati amanti ma anche se non lo siete se avete qualche suggerimento volete sapere per qualche argomento fatemelo sapere che ne parleremo assolutamente non c'è problema parliamo di tutto finché facebook non ci butta fuori noi parleremo di tutto quindi ok ciao a tutti grazie a voi una buona serata grazie Veronica ciao 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 grazie